Le dichiarazioni dell'ex procuratore FGC Di Lello a Radio Punto Nuovo hanno suscitato l'ennesima polemica. Di Lello ha parlato infatti degli scontri tra napoletani e romanisti rassicurando i tifosi del Napoli, parliamo pur sempre di una radio campana che quindi si rivolge al tifo napoletano prevalentemente, che non ci saranno sanzioni neanche in vista di Napoli-Juventus per la società sportiva calcio Napoli perché si tratta di eventi che non sono accaduti all'interno dello stadio e quindi non c'è responsabilità oggettiva. E fin qui tutto ok, anche perché non credo che ci siano tifosi della Juventus che sperano in sanzioni al tifo del Napoli per vincere meglio al Maradona venerdì 13 gennaio. Il problema è quando poi Di Lello ha risposto alle domande sulla situazione processuale sportiva della Juventus. E lì ha detto spero che il Napoli da tifoso vinca lo scudetto sul campo ridendo. E ha aggiunto che si aspetta sanzioni pesanti per la Juventus nell'ambito dei processi sportivi che sono all'orizzonte sia sul caso Plus Valencia che sul caso Manovra Stipendi. Ora, nel momento in cui dici queste due cose, mi aspetto sanzioni pesanti per la Juventus e per tutti i club coinvolti nel giro di Plus Valencia, ma da tifoso spero che il Napoli vinca sul campo, cioè senza approfittare di sanzioni come possono essere punti di penalizzazione per i bianconeri, è chiaro che i tifosi della Juventus non ci stanno. Non è una dichiarazione equilibrata, non è una dichiarazione da rappresentante istituzionale, è più una dichiarazione da tifoso e forse come tale va presa. Quindi è assolutamente comprensibile l'indignazione dei tifosi della Juventus nei confronti dell'ex procuratore Di Lello per queste dichiarazioni. Però, appunto, possiamo stare calmi e sereni, perché stiamo parlando di un ex procuratore FGG, che quindi non ha più nessun impatto, nessun impatto, credo, sull'attuale assetto istituzionale e quindi non ha il potere di decidere le sanzioni eventualmente a danno della Juventus. Piuttosto, quello che può far specie è che ci possa essere anche qualche altro all'interno della giustizia sportiva ad avere questo approccio non molto equilibrato. Cioè, nel calcio siamo e sono tutti tifosi, anche gli arbitri ormai si è capito. Il punto è cercare di separare le due cose e non è detto che si riesca sempre. E allora l'importante è la tenuta del sistema che possa impedire che qualcuno prenda delle decisioni in maniera soggettiva. Quindi un minimo di timore da parte degli juventini per quelli che saranno i processi ci può stare, però, non per queste dichiarazioni, che, ripeto, sono di un ex procuratore che esprime un auspicio più che una previsione di condanna. E infatti non è detto che chi dovrà decidere, nel caso, dovrà stare a sentire l'opinione di Di Lello. La domanda è chi dovrà stare a sentire chi deciderà? Non è una questione di essere sospettosi nei confronti dei giudici della giustizia sportiva. È una questione di stare attenti a come funziona il sistema. E la speranza, come dico sempre, non deve essere da Juventino che la Juve venga assolta o da noi Juventino che la Juve venga condannata, ma in entrambi i casi che venga accertata la verità e che vengano applicate le sanzioni secondo legge. Grazie a tutti.